Quinta batteria, Joan de Bonorva, Manca, Zia Giorgia, Guglielmi, Ambra da Coglia, Dino Pesse, Espoir de Brum, Giannetti, Sumonte con Nicolo Chiara e Volpino, Federico Arri La batteria è stata vinta da Ambra da Coglia, Dino Pesse, Zia Giorgia arrivata terza con Guglielmi, quindi secondo, Volpino con Federico Arri Su questa batteria che si può dire? Si può dire che comunque ha presentato come sempre Ambra una bella cavalla, ha vinto una bella batteria, Dino non si smentisce mai perché è un grande preparatore ma anche un grande fantino E' un ragazzo serio che è un po' sfortunato però un po' speriamo che si levi questo amore Lo sperano pure io Io lo faccio veramente perché è una persona che se lo merita, perché quel lavoro che fa Un ragazzo per bene Si, presenta come sempre i cavalli in perfezione, sa lavorare, è uno dei pochi che ha bestiere perché questo lavoro non è facile di avere tanto bestiere E' un giorno o l'altro spero che se lo meriti di stampare questo pario perché ci viene tanto, uno se ne fa veramente col cuore e passione Poi ho visto, però Federico, un volpino, una bella monta anche di Federico perché sta crescendo tanto Federico Questo, forse, dal palio di Asti si è messo in testa veramente di cosa vuol dire fare il fantino, di metterci tutto, tutto l'animo che può metterci un fantino Di, darsi dentro, sta facendo veramente bene Vi auguro che potesse rifare bene quello che ha fatto e dimostrato l'anno scorso ad Asti E si ritorna anche a Siena, se rifacesse un bel palio, poi mi ha fatto in Siena Siena ha fatto quello che doveva fare, secondo me, ha dimostrato di poterci stare benissimo dentro il gioco Esatto, esatto, esatto Anche di più Anche di più Perché ha fatto un gran bel palio E' un ragazzo che si merita veramente Ricordiamo dei gastigiani Poi conosco bene Federico, un ragazzo che lo fa veramente con passione, ci mette tutta la passione Lo fa col cuore Finalmente anche un po' di fortuna Perché, insomma, quando poter fare qualcosa ci ha avuto un paio di dannate sfortunate D'accordo E quindi se lo merita Molto, 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 molto Io aggiungo soltanto che in questa corsa trovo che Walter abbia montato veramente bene Ambra l'ha montata bene No, Ambra c'è Dino Pesce Dino Pesce, scusate L'ha montata bene anche in questa corsa qua E dunque sono in due corse Lui è montato bene Dunque sarà chiaramente uno dei pantini che questo quadro qui dirà la sua sicura Certo, certo Sì, ci sono tre corse, tre corse dove lui... Vabbè, la c'è stato lo sbaglio di Dino e Walter Ma anche Walter sta facendo bene Sì, anche Walter Sta presentando bene Sì E anche quest'anno per portare comunque i cavalli O scegliersi dei cavalli in un certo ordine Insomma per... Per... Un grande di un grande di un grande di un grande professionista Un grande Silvano eh Un grande Silvano eh Alla prima Un grande Silvano eh Un grande Silvano buona Un grande Silvano cura Un grande Silvano Si lasci a mettere i piedi in testa E... Sare una bella cosa dai Vediamo... Vediamo di vedere Vediamo di vedere un... Le batterie come escono Eh sì Se non aspetta le batterie come escono Ma certo Passiamo all'ultima batteria poi io direi di fare una sorta di ... Totto cavalli Oltretanto ormai siamo arrivati alla fine Penso ci sia poco da... Prove se che i cavalli li abbiamo già... Che cavalli vedremo al canape il primo settembre. Allora, l'ultima batteria abbiamo Ziculit con Celsosimo, Tagadà con Antonio Mula, Venus De Campeda Danilo Todde, Pampero Sbaglio Donato Calvaccio, Cassandra da Clodia Chiara, Zio Gio Guglielmi. È stata vinta da Zio Gio con Guglielmi, secondo Pampero Sbaglio Donato Calvaccio, terza Cassandra da Clodia Nicolo Chiara. Vi ricordo che potrebbe anche esserci una data di recupero, il domenica 25 agosto, una batteria di recupero dove potrebbero arrivare altri cavalli. Molto probabilmente non ci sarà, perché sono stati già fatti tutti, diciamo, accettati tutti questi cavalli che hanno forse, non so, ho sentito dire queste cose. Anche io penso che quasi tutti, a questo punto sono questi qua i cavalli. Se verrà richiesta sarà domenica 25 agosto, quindi due giorni prima delle previnze. Anche perché la settimana prima mi sembra un po' troppo vicino. Io da fare l'offido quale sono, spero tanto che una notturna non sarebbe male. Una bella notturna l'ultima domenica di agosto allo stadio di Asti. Però se ha due giorni dalle previnze è dura. Lo so, però purtroppo a Siena si insegna che si fa, le fanno, potremmo farla anche noi tranquillamente, una bella notturna giusto per arrivare poi tutti pronti con i cavalli a posto alla settimana del palco. Su questa batteria cosa si può dire? L'ho visto dalla batteria un po' difficile, dove non tutte le batterie o le corse vengono uguali, quindi questa batteria qui è stata una corsa un po' particolare, dove almeno a mio avviso io ho visto un grande Donato Calvaccio di nuovo, che si è ripetuto, l'ho guardato con attenzione perché si è ripetuto dopo le ultime corse di una volta, lui ci sta mettendo anima al cuore, uno dei ragazzi di Asti, e anche in questa corsa qui è venuta un po' strana ma alla fine è venuto fuori, ha fatto secondo, non se non sbaglio, è venuto fuori bene, è partito male, è stata una bellissima rimonta, è stata una bella corsa dove, come tutti sappiamo, la corsa è stata fatta verso il 9-10, finalmente la tribuna era piena e dunque è stata seguita un po' da tutti, sono contento per lui perché nell'ultimo giro è venuto fuori bene e sono contento per tornare.